A Roma, una di quelle risorse che tanto piacciono al PD di Letta, si trova invischiato in un inseguimento da parte di quattro agenti della polizia. Non un inseguimento qualsiasi, perché la risorsa, un ganese già presente in Italia con una sfilza di reati e di annunce lunga un chilometro, era in preda a una sorta di raptus e girava con un coltello da cucina e minacciava di ferire i passanti e gli stessi poliziotti. Ovvio che i poliziotti abbiano cercato di limitare al massimo i danni, prima circondandolo e poi colpendolo con un colpo di pistola alla gamba per cercare di ricondurlo alla normalità, però peccato che l'Italia non sia un paese normale, anzi sia un paese capovolto. Cari amici vicini e lontani, bentornati allo schiacciassassi da parte di Stefano Elena e se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come il nostro Domenico Lacava interpreta amaramente questa vicenda a modo suo. Dicevamo appunto di questa situazione, praticamente in Italia ci si trova con i poliziotti, con le persone incaricate di pubblico servizio di far rispettare le norme, che di punto in bianco perché le hanno fatte rispettare, perché hanno prevenuto i fatti più gravi di quelli che si sono verificati, si trovano di punto in bianco indagati. Si dirà che è un atto dovuto, necessario per especitare tutte le indagini, per poter consentire la difesa anche da parte del poliziotto, dicendo peccato che in Italia non sia una cosa così acclarata, perché intanto il poliziotto è stato praticamente quasi colpevolizzato in quanto gli hanno fatto un verbale, l'hanno inquisito per eccesso colposo di legittima difesa, di uso delle armi, poiché altro ancora, gli hanno sospeso la pistola e altre amminità di questo genere e soprattutto lui, un servitore dello Stato che rende sieno 1500 euro netti al mese per difendere con la propria vita i valori dello Stato e la sicurezza di tutti i cittadini, si troverà di punto in bianco a dover pagare di tasca sua le spese della difesa, delle perizie e quant'altro e sappiamo tutti che quando si è invischiati in un procedimento penale le tariffe della difesa e dei consulenti tecnici non sono affatto una passeggiata e questo rischia di rimetterci anche parecchio del proprio. Viceversa, per contrapasso, la risorsa ganese che girava brandendo un coltello e minacciando le persone si trova praticamente dalla parte non più tanto del torto ma quella della vittima incolpevole, tant'è vero che per lo Stato il suo comportamento è già stato derubricato e soprattutto lui si troverà con la possibilità di essere difeso con l'avvocato d'ufficio con le spese a carico dello Stato in quanto nulla tenente. Qua c'è qualcosa che non funziona cari amici e sarebbe stato opportuno che uno sia lo Stato che soprattutto nella sua veste di datori di lavoro a tanti migliaia di tutori dell'ordine dovrebbe assicurare oltre che la benzina per le pattuglie e i giubbotti antiproiettili efficienti anche la minima difesa per quanto tu hai fatto nell'esplicitare il tuo legittimo dovere a favore dello Stato. Soprattutto come in questo caso che pare, stando anche ai video, fuori di ogni legittimo dubbio che il colpo di pistola è stato fatto per fermare, per rendere inoffensivo uno che poteva accoltellare sia i poliziotti sia anche i cittadini inermi. Se avesse voluto fare qualcosa di più grave il poliziotto avrebbe potuto mirare ben altrove da questo punto di vista, ma non l'ha fatto. Mirare la gamba è stato un male minore. E poi, che fine hanno fatto i famosi pistole elettriche, i taser, quella scintilla che sarebbero in questi casi qua estremamente utili per poter ricondurre all'impotenza persone che sono pericolose? Anche qua, finiti fuori dall'orbita, finiti fuori dal raggio d'azione, non se ne sa più nulla. E sì che potrebbero essere estremamente utili, e sì che le polizie di altre forze in altri paesi nel mondo li utilizzano quotidianamente. In Italia però non si sa ancora nulla. Cosa prendere da questa situazione? È importante vedere e cambiare soprattutto le regole. dove lo Stato dovrebbe essere uno Stato con la S maiuscola, non uno staticchio che ha paura anche della sua ombra. Bisogna che soprattutto se uno lavora per te, tu devi assicurargli tutta la difesa possibile e immaginabile, altrimenti non sei un datore di lavoro degno di fiducia. E da questo punto di vista bisogna che lo Stato faccia sì che i propri dipendenti, soprattutto quando questi rischiano la vita per poco o più di uno stipendio da operaio, siano tutelati integralmente, anche per quello che va oltre le conseguenze della loro azione, soprattutto quando questi sono a difesa dello Stato stesso e dei cittadini. Andiamo a vedere come Domenico Lacava interpreta a modo suo questa situazione che è veramente disdicevole. Si spera che il ciclo della magistratura faccia rapidamente il suo intervento e soprattutto che ci sia i cittadini di buona fede e di buon cuore che danno una mano a coprire le spese per la difesa di questo poliziotto. Andiamo a vederlo. La Cava ricorre un po' al neorealismo, ai film dell'Italia subito dal dopoguerra, in cui ci sono due poliziotti, un padre e un figlio. Il padre che dice al figlio, figliuolo, ora sei un agente, stipendio da fame e spese legale a carico tuo. E quell'altro che gli risponde, che culo! Bisognerà vedere se questo sarà veramente un culo quando ben o mai ci si trova invischiati per cause, per responsabilità non proprio in queste rogne, sarà ancora un culo. Cari amici vicini e lontani, grazie di essere stati qua con questa puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Eliana prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, dateci la forza con la vostra presenza e con la vostra adesione e intanto noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao, grazie! 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 Grazie!